Franco Annunziata, candidato sindaco di Sarno, città da vivere e Sarno rinasce libera, ufficializza la sua adesione al nuovo centrodestra in un incontro a cui hanno partecipato anche il coordinatore regionale del nuovo centrodestra, Gioacchino Alfano, i vertici provinciali del partito Roberto Celano e Pasquale D'Acunzi, c'è stata appunto la conferma che questa nuova formazione politica lo sosterrà alle prossime elezioni amministrative. Noi abbiamo fatto un partito, sto qui per Franco Annunziata, però voglio aggiungere che il nuovo centrodestra oggi ha lanciato una fusione che comporta un nuovo simbolo, non so se avete visto il simbolo che noi abbiamo con piacere coniato per le amministrative e per le europee che racchiude il nuovo centrodestra con Alfano e con l'Udc. Sono rimasti con noi dal governo e addirittura hanno deciso di costituire un nuovo soggetto, che è anche un luogo nuovo, lo avete visto, che vuole contenere all'interno del suo perimetro tutti quegli elettori che vogliono mantenere il governo in carica, vogliono essere partagionisti sui territori, ma per fare cose, per risolvere problemi, non per fare questioni elettorali o fare tattiche. A Sarno Franco Annunziata ha scelto questo. Il sottosegretario Gioacchino Alfano che è anche il coordinatore campanno del nuovo centrodestra, un partito che si è allargato anche all'Udc, al partito di Mauro, sono qui per offrirle il loro sostegno. Questa è una cosa che avevamo preannunciato nei giorni scorsi, diciamo che questa sera diventa ufficiale, per cui noi siamo contenti, perché naturalmente si allarga la coalizione, si amplia la coalizione, siamo contenti di questo appoggio perché il nuovo centrodestra è un partito di governo, un partito che ha messo davanti a tutti l'interesse dell'Italia.